Pace e bene cari fratelli e sorelle, buona e santa Pasqua! Cristo è risorto, è veramente risorto, alleluia! Con gioia celebriamo questa solennità, cuore di tutta la nostra fede, Cristo morto e risorto per la nostra salvezza. Il significato della parola Pasqua è passaggio, Gesù che è passato su questa terra per la Palestina, beneficiando e liberando dal potere del male, è passato anche attraverso la passione morte per giungere al Padre. La morte non è più la stazione di arrivo, il capolinea, è un punto di transito, Cristo è andato oltre, tutta la sua vita è stato un grande passaggio al Padre, cioè un vivere continuamente affidato al Padre e anche la morte diventa l'atto ultimo di questo definitivo passaggio al Padre, portando in Lui tutta la nostra natura umana. Andiamo al testo, Giovanni 21,9, un brano che non ci parla della manifestazione del Signore risorto, ma dell'esperienza di tre discepoli con un fatto, il sepolcro vuoto. Questo testo ci è dato perché lasciando risuonare in noi la parola e ripercorrendo la loro esperienza, si possa ravvivare nel cuore la fede nel risorto e soprattutto imparare a leggere i segni di vita anche laddove, umanamente parlando, sembra esserci solo morte. Andiamo al testo, Maria di Magdala, le prime luci della domenica mattina, si reca al sepolcro. Il desiderio di Gesù la spinge lì, il desiderio di pregare, di stare con Lui è il desiderio dell'amato. Va a cercarlo nel sepolcro dove l'hanno deposto, aspettandosi di trovarlo chiuso. Chissà che mix di sentimenti c'erano nel suo cuore. L'evangelista specifica che era ancora buio. È una connotazione non solo geografica, ma anche esistenziale, è il buio del cuore. Sì, Gesù aveva detto che sarebbe risorto, che era Lui stesso la risurrezione e la vita, ma la morte è la morte e lo hanno visto morto deposto lì nel sepolcro. Capite? La risurrezione non poteva inventarsela né aspettarsela a nessuno. Maria in fondo racchiude e rappresenta tutti noi quando, davanti al dramma della morte, davanti al non senso della sofferenza atroce, ci sentiamo vacillare. Altro è dire che Gesù è risorto, altro è accoglierlo e unirci a Lui ed è vivere con Lui i momenti più bui e dolorosi della vita. Maria va lì aspettandosi il sepolcro chiuso e invece lo trova aperto. Ecco la Pasqua, disse Don Tonino Bello, la festa dei sepolcri spalancati. Qual è la pietra che chiude il sepolcro del cuore? I sepolcri possono essere gli odi, i risentimenti, le situazioni non risolte, possono essere le nostre schiavitù, i nostri vizi. Qual è quella pietra che occlude il mio cuore? Qual è quella situazione che da solo non riesco a superare? Ecco, Maria si aspetta che il sepolcro sia chiuso e invece è invece aperto. Ecco il Signore spalanca le tombe, passa oltre, neanche la morte lo può imprigionare. Così è la nostra vita quando davvero facciamo esperienza di Lui, quando il risorto non è un'idea ma è una persona con la quale viviamo in comunione. Come? Custodendo la sua parola, incontrandolo vivo nei sacramenti, specie nell'eucaristia, e allora uniti a diventiamo anche noi capaci di passare oltre e Lui sa spalancare le porte dei nostri cuori per infondere vita, perché entri luce nel nostro buio. Maria trova il sepolcro aperto e corre, corre dai discepoli perché? Perché interpreta quel fatto in un modo possibile, cioè lo hanno portato via, hanno trafugato il corpo. Vi dicevo, la risurrezione nessuno se la poteva aspettare o inventare. Quella è la lettura che lei dà della realtà e va a chiamare Pietro e il discepolo amato, che a loro volta partono. Ecco, in Maria abbiamo colei che interpreta inizialmente in modo riduttivo e parziale un fatto, anzi in modo proprio sbagliato. Ecco, noi tante volte vediamo e leggiamo la realtà da un punto di vista parziale e limitato. Noi abbiamo bisogno continuamente di lasciarci rivisitare, rielaborare, riordinare dalla parola di Dio. Abbiamo bisogno di imparare a leggere la realtà con gli occhi del Vangelo, iniziare a guardare le cose da una prospettiva di vita, non di morte. Maria va al sepolcro pensando di trovare Gesù morto, trova il sepolcro aperto e pensa lo abbiano trafugato. Abbiamo qui una lettura parziale della realtà, non ancora illuminata dalla risurrezione di Cristo. A volte è così anche la nostra vita e la nostra storia. Leggiamo tutto con occhi disfattisti, negativi o comunque non illuminati dal Vangelo. Ad esempio, determinate sofferenze vissute, tali sono rimaste. Non mi sono ancora riconciliato con la mia storia, non ho saputo ancora scorgere la provvidenza lì nascosta e cogliere che anche le situazioni più dolorose possono essere occasioni di crescita, di maggior dono di me, di maggior comprensione dell'altro. Oppure ho vissuto il fallimento di alcuni progetti e sono rimasto incartato lì, chiuso nel sepolcro del lamento. Non ho ancora lasciato entrare la risurrezione, capace di spalancarmi mente e cuore e scoprire che oltre ai miei progetti ce n'è uno più grande che è quello di Dio. Maria giunge al sepolcro, lo trova vuoto, si fa prendere dalla paura che abbiano portato via il corpo di Gesù e quindi corre dai discepoli. Diventa annunciatrice di un fatto, chiaro, di un fatto non ancora correttamente interpretato, ma vedete, Maria fa quasi da collante tra il risorto e i discepoli, li mette in moto, li fa uscire dalla chiusura nella quale si trovavano. È bellissimo perché nel Vangelo secondo Giovanni le donne hanno un ruolo meraviglioso, spingono sempre gli uomini a fare un passo oltre se stessi, addirittura il primo segno di Gesù è spinto da sua madre, dalla Madonnina, Cana. La Maddalena diventa l'apostola degli apostoli, colei che una volta incontrato Gesù risorto lo annuncerà per prima. Qui vai dai discepoli, in preda alla paura, li va a chiamare. Potremmo cogliere anche un altro aspetto, Maria si lascia prendere dalla paura di perdere Gesù. Da una parte ci dice il suo amore per il Signore, dall'altra ci mette in guardia dalle paure. Tante volte quando ci facciamo prendere dalle paure e leggiamo con gli occhi della paura la realtà, combiniamo fesserie. Abbiamo bisogno di coltivare l'unione con Cristo per diventare capaci di dare un nome e vincere le nostre paure, resistere quando ci vogliono portare fuori strada, scoprire che ci è dato uno spirito da figli per non ricadere nella paura per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. I due discepoli corrono, il discepolo amato va più veloce, capiamo che qui non c'è solo un dato fisico, è il discepolo che ha appoggiato il capo sul cuore di Gesù, che è stato fedele fin sotto la croce, dunque, dunque il discepolo unito a Gesù dall'amore. E l'amore mette le ali, ti aiuta a entrare meglio nel mistero di Cristo, così come ti aiuta a capire meglio chi hai accanto. Perché? Perché impari a metterti nei panni dell'amato. Corrono, ma il discepolo amato ha rispetto per Pietro, appesantito, chissà, forse anche dal senso di colpa, dal fallimento incontrato nel rinnegamento, ma lo rispetta, rispetta quel ruolo che Gesù gli ha dato. Pietro entra, vede, il discepolo amato vide e credette. Perché? Perché vede la realtà con gli occhi di Cristo, la vive unito a Cristo, lascia risuonare nel cuore le parole di Cristo. Diciamo, davanti a quella scena fa un salto nella fede in Gesù, la legge con gli occhi e le parole di Gesù. Questo ci dice che non si fa Pasqua perché si sa che Gesù è risorto, ma perché ci si fida di Lui, si aderisce a Lui, si crede alle Sue parole e su quelle si fonda la propria vita. Si legge la realtà alla luce delle Sue parole, che lo Spirito Santo fa riecheggiare nel cuore e incide sempre più nel nostro cuore perché diventino la nostra vita vissuta. Posso imparare a vedere dietro le prove delle occasioni per crescere nell'amore? Posso imparare a cogliere nel limite della persona che ho accanto una chiamata ad amare di più? Posso vivere e sperimentare la sofferenza come una crescita nell'unione con Dio ed essere reso capace di attraversarla serenamente? Posso vivere la malattia non come vita che si consuma e morte che avanza semplicemente, ma come vita che si glorifica come atto ultimo di una esistenza spesa per amore? Sì, tutto dipende dalla nostra unione con Gesù, dal nostro passare in Lui, dal nostro passare in Lui al Padre, insomma dal nostro vivere da risorti. Ed è proprio ciò che ci auguriamo, non solo augurare buona Pasqua, non solo sapere che Gesù è risorto, ma vivere la Pasqua ed essere veramente uomini e donne risorti a vita nuova, partecipi della vita di Cristo, capaci di entrare e leggere la realtà con il cuore e gli occhi di Cristo. Che il buon Dio vi benedica, pace e bene a tutti!